Non cambierà nulla, non cambierà davvero. Non cambierà nulla anche se... Per rispondere alla domanda che non voglio assolutamente eludere, la questione delle preferenze, banalmente Vannacci, cioè perché gli italiani hanno dato più preferenze a Vannacci? Banalmente, perché Vannacci era candidato in tutte le circoscrizioni, il nostro segretario italiano no, peraltro non era candidato nella regione, cioè nella circoscrizione insulare Sicilia e Sardegna. Quindi solo una tecnicalità, quindi. Farenzo, facciamo un gioco, che quando parlo io non mi interrompo, perché poi io mi scordo le cose. la Sicilia è la regione che ci ha dato di più, ci ha dato il 20%, quindi probabilmente con la candidatura anche nella circoscrizione insulare avrebbe preso più preferenze. Detto questo, per carità, me la sono cavata, diciamo così, con la risposta. Da sola, fa la domanda e si dà la risposta. E anche il giudizio. Politicamente, me la sono cavata perché ho detto una cosa... No, no, ma... Politicamente? Politicamente mi interrogo, onestamente. Oh, questa era la risposta che volevo. Sai Gaia che io non mi nascondo. Politicamente mi interrogo? Mi interrogo perché...